Prosegue a piano ritmo il ritiro degli Amaranto qui a Cascia, noi ci troviamo proprio fuori la struttura che ospita la formazione di Eziolino Capuano, siamo davanti all'hotel delle Rose dove la sveglia suona presto al mattino e soprattutto nelle prime ore della giornata. Il lavoro si concentra soprattutto per quanto concerne la parte fisica, quindi palestra e lavoro atletico, è fondamentale nel ritiro mettere benzina nelle gambe che servirà poi per affrontare la nuova stagione, ma il ritiro è importante anche per amalgamare un gruppo completamente nuovo dopo la rivoluzione decisa dalla società in sede di Calcio Mercato. Dunque sono giorni intensi con doppia seduta al mattino e al pomeriggio al campo sottostante l'hotel, sono giorni nei quali Capuano e il suo staff cercano di dare un'identità all'Arezzo che verrà. Ci siamo spostati sotto l'hotel dove la squadra sta già effettuando l'allenamento pomeridiano, al pomeriggio Capuano effettua soprattutto esercitazioni tecnico-tattiche, il tecnico Amaranto sta lavorando in questi giorni di ritiro sul 343, modulo con il quale vuole iniziare la stagione e le prime amichevoli in questo senso daranno le prime risposte a Capuano e al resto dello staff tecnico. Grazie a tutti!